Se l'Epifania tutte le feste porta via, purtroppo i soldi del CAS, Convenzione Autostradale dei Vigili del Fuoco e Consorzio Autostradale Siciliano, purtroppo sono spariti. Da due anni facciamo questa denuncia per avere raggiti i nostri fondi e i nostri buoni pasto, che purtroppo sono spariti nel nulla. Allo stato attuale neppure la direzione regionale sa cosa dirci. Sono fondi che i Vigili del Fuoco dovevano percepire, non indifferenti. Differenti, pertanto noi come Vigili del Fuoco denunceremo fino a quando non percepiremo queste economie. Oltre a questo abbiamo grosse difficoltà per la ripulazione dei mezzi, perché sono finiti i fondi da parte dell'amministrazione e abbiamo i mezzi ai box che non possono essere riparati. Le solite problematiche in Sicilia, gli interventi non diminuiscono, anzi aumentano, il personale è stanco ed estremato, pertanto ci vogliono le assunzioni, passaggi di qualifica. Il riconoscimento delle nostre malattie professionali è una tutela sanitaria completa, oltre ad essere rispettati come Vigili del Fuoco sia da enti esterni che dalla nostra amministrazione e soprattutto dalla politica, che di medaglie di cartone ci riempie, ma dopo l'evento purtroppo spariscono tutti e le problematiche rimangono. Grazie.